Alleluia! Allora, possiamo prendere i nostri appunti, prepararci, un attimo che sincronizzo anche il web, la pagina Facebook. Vi chiedo di metterci comodi, di sincronizzare i nostri appunti e prepararci per la parola. Allora, la parola di questa mattina sarà un po' più corta perché poi avremo spazio per celebrare insieme la cena del Signore, ok? Quindi per questo motivo vi chiedo di pazientare ma avremo una predicazione un po' più corta, ma penso che non tanti sarete tristi di questo, quindi... Allora, Dio è buono. La parola di oggi vorrei condividerla con voi. Possiamo prendere ora, per favore? Gentilmente prendiamo ora insieme... Numeri. Allora, il titolo di oggi è La forza della fiducia, ok? Perché ho amato l'anteprima che è stata fatta da Davide e da Manuela e mi ha colpito anche molto che loro si sono soffermati sul diletto, no? Sul dilettarsi nelle cose di Dio, il dilettarsi nel Signore Ed è un aspetto molto bello che andrebbe davvero apprezzato tanto Dilettarsi nel Signore E io credo che questo può avvenire solamente quando noi riponiamo la nostra fiducia nel Signore Ed è di questo che vorrei parlarvi questa mattina Allora, numeri 20 Leggiamo tutto l'episodio e mi connetto un po' alla parola di domenica scorsa E apro una parentesi Credo che sia importante il lavoro che stiamo facendo nel Life Group Perché non basta a volte ascoltare il messaggio e riascoltarlo A volte riparlarne, ridiscuterne come facciamo nei nostri incontri settimanali con le domande Ci aiuta veramente a provare se abbiamo veramente compreso questo messaggio se abbiamo veramente assorbito la parola Perché non è importante ricevere tanta parola E' importante assorbirla Che possa davvero entrare in profondità in noi Penetrare il nostro cuore e portare frutto Quindi credo sia importante A volte alcuni soggetti andrebbero ripetuti più volte Perché in questo modo vengono assorbiti Ed è per questo motivo che il lavoro che facciamo nel Life Group Diventa essenziale per la crescita e l'edificazione di ognuno di noi Allora, la forza della fiducia Ricolleghiamoci al messaggio di domenica E leggiamo i numeri 20 Numeri 20 leggeremo dal versetto 7 Il Signore disse a Mosè Prendi il bastone, tu e tuo fratello Aaron Convocate la comunità e parlate a quella roccia In loro presenza Ed essa darà la sua acqua Tu farai sgorgare per loro acqua dalla roccia E darai da bere alla comunità e al suo bestiame Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore Come il Signore li aveva comandato Mosè e Aaron convocarono l'assemblea di fronte alla roccia E Mosè disse loro Ora ascoltate, o ribelli, faremo uscire per voi acqua da questa roccia E Mosè alzò la mano E Mosè alzò la mano, percosse la roccia Con il suo bastone due volte E ne uscì acqua in abbondanza E la comunità e il suo bestiame bevero Versetto 12 Su cui ci soffermiamo questa mattina Poi il Signore disse a Mosè E ad Aronne Siccome non avete avuto fiducia in me Per dare gloria al mio santo nome Agli occhi dei figli di Israele Voi non condurrete questa assemblea nel paese Che io le do Riflettiamo un attimo su questa scrittura Ok? Perché? Perché qua stiamo parlando del grande Mosè Del Mosè che ha aperto il Mar Rosso Del Mosè che ha operato prodigi Del Mosè che ha tirato fuori Israele Da una condizione di controllo e schiavitù Per introdurlo Per portarlo in un paese Dove scorre latte e miele E in un momento cruciale Mosè venne distaccato E non ubbidì Proprio perché non aveva imparato A prendere e a riporre la sua autorità E qua la scrittura dice che Preso dall'emotività Ma non è solo dall'emotività Perché come vedete Il versetto 12 Dio non rimprovera L'emotività Di Mosè Perché tutti possiamo avere uno scatto dire Attenzione La Bibbia dice Adiratevi Ma non peccate Quindi tutti possiamo avere un momento In cui l'emotività Prende il sopravvento Ma poi siamo chiamati A gestire Ad avere autocontrollo A ricomporci Qui Dio Non dice Mosè ti sei fatto prendere Dal momento Hai avuto troppa foga C'è stata Troppa Avventatezza In quello che hai fatto No 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 Qui Dio È molto specifico E dice Non avete avuto Fiducia in me Io voglio usare Altri Termini Per renderlo un po' Ancora più chiaro Voi non avete avuto Fiducia in me Voi non avete mantenuto L'alleanza con me Voi non avete avuto Fede in me Ehi Stiamo parlando di un uomo Che ha compiuto Grandi opere di fede La Bibbia dice Che per fede Lasciò l'Egitto Ebrei 11 Dice Per fede Lasciò l'Egitto Considerando I tesori di Cristo Ricchezza maggiore Di quelli d'Egitto Quindi Non si può dire Che non fosse Un uomo di fede Ma c'era Un'area Del suo cuore Nonostante lui Vedeva Dio Faccia a faccia C'era un'area Del suo cuore In cui Non aveva riposto Fiducia realmente Nel Signore In un momento Come questo Stava dicendo Il Signore Voi avete fatto Alleanza Con altro Fiducia E alleanza Sono due cose Molto simili Tu hai posto Alleanza In altro Non hai avuto Fiducia In me Isaia dice Nella calma E nella fiducia Sarà la vostra forza E in quel momento Lui ha manifestato La sua debolezza Cioè nel non riporre La fiducia Nel Signore Com'è possibile Compiere opere potenti E nel momento opportuno Non riporre fiducia Qua il rimprovero Di Dio Non è L'avventatezza Non è Lo scatto d'ira Il rimprovero È non aver posto Fiducia In Dio In chi Riponi Realmente Fiducia Troppe volte Io ascolto Persone Che dicono Che loro Pongono Totalmente La loro fiducia Nel Signore E io A volte Provo Sia rabbia Che pena Per queste proclamazioni Di fede Vuote Vuote Perché Perché Si riempiono La bocca Di fede Ma il loro cuore È lontano Dal concetto Di fiducia Parliamo In Un linguaggio Spirituale Ma realmente Il nostro cuore È lontano Dal concetto Di fiducia Forse Non sappiamo Realmente Cosa significa Fidarci Di Dio Perché Nella misura In cui Ci fidiamo Realmente Parliamo Tu non puoi Separare La bocca Dal cuore Col cuore Credi Con la bocca Confessi Ma molti Fanno La separazione Col cuore Sono lontani E dice Questo popolo Dice Isaia Mi onora Con le labbra Con le loro labbra Tanta di quella fede Ma il loro cuore È lontano Da me E in vano Rendono Un culto Insegnando Dottrine Che sono Di uomini Qui Permettetemi Quest'enfasi Non avete avuto Fiducia In me Per dare Gloria Al mio santo nome Agli occhi Di Israele Voi In questo modo Non siete stati Ritenuti degni Di condurre L'assemblea Nel paese Che io le do Non è questione Di potere Non è questione Di autorità Non è questione Di carisma Non è questione Neanche di leadership È questione Di chi Ti stai fidando In chi Stai riponendo Realmente La tua fiducia E io ho dovuto Analizzarmi In questo tempo Perché ogni volta Che ad esempio La paura Assale Le circostanze Negative Assalgono La nostra vita Noi riflettiamo Su chi Realmente Ci stiamo fidando Tu con la bocca Puoi dire Di confidare In Dio Ma appena Il tuo stipendio Viene messo In discussione Comincia La tremarella Tu con la tua bocca Puoi dire Che Dio E il tuo signore Ma come cominciano A mancarti Gli affetti Tu cominci a vacillare Con la tua bocca Puoi dire Dio è la persona Più importante Della mia vita Ma quando cominciano A scatenarsi Eventi Che Trasmettono Instabilità Alla tua vita Ecco che tu Cominci a crollare Ecco che cominci A vacillare Perché? Perché Non c'è Realmente fiducia Nell'opera Di Dio Non c'è Veramente fiducia Nella persona Di Dio E come mai Un uomo Come Mosè Fu colto Da una mancanza Di fiducia Io credo Che tra i tanti motivi Ci sia Ci sia stato Un modello Sbagliato Di cui non si è mai Liberato Uno dei problemi Principali Di tutto Israele Era che non si era mai Completamente Liberato Dal modello Egiziano Dal modello Passato Dal modello Dei nostri padri E molte volte Applichiamo La nostra cultura Il nostro modo Di ragionare Alle cose Di Dio Eppure Quando è il momento Della prova Queste cose Ereditate Queste cose Acquisite Queste cose A cui ci leghiamo Dimostrano Di non avere Un fondamento Stabile E noi Cominciamo A crollare Quando avviene Invece Una fiducia Reale Perché Sapete Riflettevo Su che cos'è La rivelazione Di una definizione Sulla rivelazione E mi è venuto Da scrivere La rivelazione È Fedeltà Nell'ubbidienza Ok Mi è venuta Questa frase Perché La rivelazione È Fedeltà Nell'ubbidienza Dio disse ad Abramo Esci Da Ur dei Caldei E ti condurrò Nel paese In un paese Ma quale paese? Però vedete Abramo riceveva Rivelazione Da lì è diventato Il padre Della fede Man mano Che ubbidiva Al santo comandamento Perché La rivelazione Arriva Man mano Che ubbidiamo Alla porzione Che ci viene data E come facciamo Ad ubbidire A quella porzione Che ci viene data Attraverso La fiducia Quante volte Ho sentito dire Ah io non mi fido Di nessuno Se non del Signore Solo nel Signore Ripongo la mia fiducia Ma se non ti fidi Dell'uomo che vedi Come fai a fidarti Di Dio che non vedi? Vedete Noi dobbiamo Riporre la nostra fiducia Nel Signore Ma dobbiamo imparare A coltivare la fiducia La fiducia È vita La fiducia È qualcosa Di prezioso Quando siamo Sfiduciati Nella vita Nelle persone Tendiamo ad essere Pian piano Sfiduciati Nel Signore Mosè pian piano Era sfiduciato Nel popolo E pian piano Venne sfiduciato Nel Signore Non avete avuto Fiducia in me E Proverbi 6 dice Ciascuno vanta La propria bontà Ma chi può trovare Un uomo fedele Un uomo Di cui ci si può fidare Un uomo di fede Un uomo a cui dare fiducia Un uomo a cui riporre fiducia Un uomo che è disposto a credere Perché credere Fede Fiducia Significa fidarsi E Mosè venne meno in questo Ma questo è un insegnamento per noi Non per giudicare Mosè E dice Non avete avuto fiducia in me Per dare gloria al mio santo nome Agli occhi dei figli di Israele La testimonianza Ora non posso introdurvi Nel paese della rivelazione Perché dove lo condurrete Questo paese Se non vi fidate di me Infatti Chi entrò nel paese Della terra promessa? Giosuè Perché Giosuè? Perché Giosuè Capito lì prima Rimase fedele a Dio Nonostante le altre dieci spie Annunciavano la sciagura Nell'entrare in quel paese In tutto questo Nonostante il padre di Giosuè Il padre spirituale di Giosuè Fosse Mosè Giosuè rimase fedele Al modello di impartizione Di fede Di fiducia nel Signore Perché solo mediante la fiducia In me che vi potrò condurre Nella terra promessa Molti cercano la terra promessa Per fidarsi Ma è tramite la fiducia Che tu entri nella terra promessa Non importa Perché molte volte vogliamo capire tutto Vogliamo rivelazioni di tutto Ma la vera rivelazione È fedeltà nell'ubbidienza Anche se non comprendo tutto Mi fido ciecamente Mi fido pienamente Di quello che mi stai dicendo Mi fido pienamente Dove mi stai conducendo È la piena fiducia È la piena fiducia Mentre io ti parlo Nel nome del Signore Domandati C'è qualche area Che il Signore vuole fare Emergere fuori Dove c'è mancanza di fiducia Io so bene Che quando annuncio la parola Lo Spirito di Dio Comincia a portare luce In quelle aree Perché lo fa con me E lo fa anche con voi Ne sono certo Mentre la parola viene annunciata La parola è una lampada Che mette luce Ma non solo fuori Soprattutto dentro di noi Perché credo ci sono aree Che devono essere Crocifisse Nello scetticismo Crocifisse Nell'incredulità Crocifisse Quando si passano Magari ferite Di delusione Tradimento E la fiducia Deve essere restaurata La fiducia Nel Signore Deve essere restaurata E a volte ti accorgi Di non avere pienamente fiducia Quando cerchi Di aiutare Dio A mantenere la sua parola Dio aveva detto a Mosè Parla la roccia E lui l'ha randellata Ma sì Diamoci un colpo D'autorità A volte vogliamo Aiutare Dio Orchestrando le cose Per facilitargli la strada A mantenere le sue promesse Ma Dio Sa far Dio Benissimo da solo Sara Moglie di Abramo Voleva aiutare Dio Nel concepire Il figlio della promessa E gli ha dato In mano La sua serva Agar E questo è quando Crediamo alle promesse Di Dio Ma non fino in fondo Ci fidiamo di Dio Ma non fino in fondo Ma c'è Una fiducia Maggiore In cui se tutto il mondo Anche fosse in guerra Io mi fido di te Stamattina leggevo Le testimonianze Mi sono riletto Un articolo Che diceva Tutti i modi In cui Gli apostoli Del fondamento Sono morti Tranne Giovanni Sono tutti morti martiri Ma c'è stato uno Che mi ha colpito Che fu condannato Se non sbaglio O Giacomo Andrea Fu condannato Alla Alla decapitazione E mentre Disse che Il giorno Della sua sentenza Disse Quanto ho desiderato Questo giorno Di andare Con il mio signore E mentre Parlava così Lo ascoltava Il suo Carceriere E nel frattempo Questo apostolo In sentenza Di morte Comincia a parlare A A A A A A questo carceriere Comincia a condividergli La gioia della salvezza La bramosia Di incontrare Il suo signore E dice che Questo rilascio Di parole Lo porta A inginocchiarsi A questo carceriere E a dare la sua vita A Cristo Ma non a darla Per dire Bello Ascoltato Interessante Questo cristianesimo No 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 Davanti al boio Dice Sono pronto a morire Insieme a lui Come cristiano Perché io voglio seguire Cristo E se questo Se è il costo Da pagare la vita Voglio morire Insieme a lui E non fu Decapitato da solo Fu decapitato Con una persona Che aveva appena Portato la salvezza Per la gioia Posta davanti Per la gioia Della salvezza E Per la fiducia In questo Dio Per la fiducia Piena In questo signore Ma a volte Noi vogliamo essere Come Sara E a volte Cerchiamo La Bibbia dice Chiunque Vuole piacere A chi l'ha ruolato Come soldato Non si interessa Alle faccende Della vita Se vuol piacere A chi l'ha ruolato Seconda Timoteo 2 Ma si occupa Dell'incarico E del mandato Ricevuto dal Signore Guardate qua Quante volte Abbiamo parlato Di Marta e Maria Leggiamole insieme Per favore Perché vi devo dire Qualche cosina Ora abbiamo preso Esempi D'Antico Testamento Ora prendiamole Del nuovo Luca 10 Attenzione Leggiamo giusto Per ricordarci Chi è questa Marta E questa Maria 40-42 Dice Luca 10 Luca 10 Da 40-42 Ma Marta Tutta presa Dalle faccende domestiche Mentre Gesù Parlava Venne e disse Signore Ma non ti importa Che mia sorella Maria Mi abbia lasciata Sola a servire Dille dunque Che mi aiuti Ma il Signore Le rispose Marta Marta Tu ti affagni E sei agitata Per molte cose Ma una cosa sola È necessaria Maria ha scelto La parte buona Migliore Che non le sarà tolta E qui vediamo E sentiamo parlare Di Maria Che viene elogiata Marta Rimproverata Ora io vi voglio mostrare Che nonostante Nonostante Maria avesse scelto La parte migliore C'era un modello Dentro di lei Che ancora Doveva essere abbattuto Ora ve lo voglio mostrare Perché c'era un modello Che doveva essere abbattuto E per assurdo Noi vediamo Un ribaltarsi Delle situazioni Perché Ora vi voglio Mostrare Che anche se Se c'era ignoranza Marta riceve Questo insegnamento Maria Quando era il momento Di metterlo in pratica Fa qualche passo indietro Per favore Prendete con me Giovanni 11 Perché vi voglio mostrare Come Questo messaggio Non è per gli altri È per me Ok Giovanni 11 Versetto 20 Ricordatevi In questo capitolo Lazzaro Che è fratello Di queste due sorelle Muore Ok Muore E mandano a chiamare Gesù Gesù temporeggia Gesù temporeggia Versetto 20 Come Marta Ebbe udito Che Gesù veniva Gli andò incontro Ma Maria Stava seduta in casa Lo rileggo Dopo un po' di tempo Lazzaro muore Già da quattro giorni E Gesù E Gesù arriva Nelle sue parti Come Marta Ebbe udito Che Gesù Stava arrivando Gli andò incontro Ma Maria Stava seduta In casa Ehi È la stessa Maria Che si incantava Ad ascoltarlo È la stessa Maria Ascoltatemi Aprite bene le orecchie È la stessa Maria Che stava ad ascoltarlo E non voleva occuparsi Delle cose della vita A differenza di Marta Però qua vediamo Un ribaltarsi Delle situazioni Perché molte volte L'ascolto della parola Produce in noi Il nostro interesse Come le cose Devono funzionare Perché io Ho capito Quanto Dio Vuole benedirmi Ho capito Che Dio è il primo posto E siccome l'ho capito Deve tutto funzionare Per la sua benedizione Che non è la sua benedizione In realtà è il mio modo Di concepire la benedizione Ed ecco che Quando qualcosa Va storto Gli è morto il fratello Rimane seduta in casa Offesa Marta no Nonostante è sofferente Ha capito la lezione Va incontro a Gesù Per ascoltarlo Per cercare il consiglio Non guarda i suoi Le sue sofferenze Ma guarda quello Che è il proposito Di Cristo In ogni situazione Marta rimane seduta Cioè Maria Rimane seduta In casa Come mai Non va incontro Al maestro Come mai Rimane seduta Perché si è offesa Ma come Io ho ascoltato La tua parola L'ho ascoltata Ho fatto meglio Di mia sorella Attenzione Non distraetevi In questo momento Non distraetevi Neanche leggendo altro Maria ascoltava Gesù Ma in quel momento Ha detto Che mi è servito Tutto questo ascoltare Ecco che sorge Energe La mancanza Di fiducia La mancanza Di fiducia Viene fuori E noi ci chiudiamo Al riccio Com'è che me ne accorgo Quando a volte Ho dei problemi E non vado Ai piedi del Signore Chiamo un amico Non c'è nulla di sbagliato Nel chiamare l'amico L'ho sbagliato E quando evito Cerco altre cose Che mi distraggano Da Dio Che lascio perdere Il richiamo Della sua presenza Lascio perdere L'ascoltare La sua voce Perché È andato storto È andato storto Magari Maria disse Diceva Prima di conoscere Gesù Le sciagure Mi capitavano Ma ora Anche con Gesù Succedono Ora succedono Anche con Gesù Le sciagure Succedono Anche con Lui E allora Qual è la differenza Tra chi crede E chi non crede Qual è la differenza Perché è successo Anche con Anche io Che ho ascoltato Gesù Sono stata lodata Da Gesù Elogiata Per averlo ascoltato Ma ora Ma ora Mi è entrata La disgrazia In casa Mio fratello Si è ammalato Ho mandato A chiamare Gesù Ma non è successo Nulla E vedete come emerge L'incredulità Che era Coperta Dalla parola Coperta Non sradicata Ecco perché la parola Deve essere Piantata in noi Dice la scrittura Perché poi Deve mettere Radici profonde Nel momento Della crisi L'empio Quando passa La tempesta Non c'è più Ma il giusto In Cristo Ha il fondamento Eterno Dice Proverbi E allora Passiamo un momento In cui ci isoliamo In cui ci offendiamo Con Dio Giona si era offeso Con Dio Il profeta Giona Perché? Perché Dio si stava Muovendo al di là Dei suoi canoni E si era sfiduciato In Dio Si era offeso Con Dio Molti personaggi Che noi Logiamo Solitamente Si sono offesi Con Dio E non ci nascondiamo Dietro un dito Sapete quanti credenti Quante volte Io stesso Ho realizzato Di essermi offeso Con Dio Ah Se Dio non mi aiuterà Dovrò cavarmela Dovrò trovare Un modo io Dovrò fare io In qualche modo E non ci rendiamo conto Perché non sono Ragionamenti lucidi Sono ragionamenti inconsci Ma pur Allo stesso modo Questi ragionamenti Avvengono Dentro di noi E noi non dobbiamo Essere ciechi Con noi stessi Dobbiamo guardare In faccia Questi pensieri E affrontarli Vanno guardati In faccia Ed ecco che subentra L'intervento Dei fratelli Che ci aiutano A vedere Guardate qua Versetto 28 Detto questo Se ne andò E chiamò Di nascosto Maria Sua sorella Dicendole Il maestro E qui E ti chiama Guardate qua L'aiuto dei fratelli Che ci aiutano Qua Vedete Il maestro è qui E ti chiama Non compare Nel dialogo Che dice Gesù disse A Marta Vai a chiamare La tua sorella Vedete qua Non compare Questo dialogo Però qua È l'aiuto Dei fratelli Che ci stimolano Ad andare incontro Al Signore Che aiutano Guardatemi bene Che aiutano A guardare Come stiamo Che a forse Un occhio esterno A volte Vede meglio Le situazioni Che viviamo E ci indirizza Nella via Del Signore Ecco perché Non esiste Cristianesimo Non esiste Discepolato Da soli Il nostro Discepolato È con Dio Ma ci prendiamo Cura gli uni Degli altri E a volte Abbiamo bisogno Di qualcuno Che ci faccia Vedere le cose Come stanno Perché siamo Così bravi A ingannare Noi stessi Dietro versetti E dietro Dottrine Preconfezionate Ma Marta Guardate qua Quella che era Rimproverata Da Gesù Marta Marta Ti fai prendere Dall'ansia Qui è lei Che sprona La Maria Elogiata Ad andare incontro Al Signore Ed ella Udito questo Si alzò E in fretta Andò da lui Vedete finalmente Diceva Cosa faccio Lontano dal Signore Meglio che vado Incontro a lui Non ho capito nulla Ma vado incontro Perché vedete Ci lascia un tempo Dell'offesa Ma poi il Signore Ci ricorteggia Tramite la sua chiesa Tramite i fratelli Ricorteggia La nostra vita Or Gesù Non era ancora entrato Nel villaggio Ma era sempre Nel luogo Dove Marta L'aveva incontrato Perciò i giudei Che erano in casa Con lei E la consolavano Vedendo che Maria Si era alzata in fretta Ed era uscita La seguirono Supponendo che si recassa Al sepolcro A piangere Vedete C'è la chiesa Che ti stimola Andare incontro a Gesù E la chiesa Che si Che si mette A Ad alimentare Il vittimismo Ad alimentare Lo sconforto Anche se l'intento È consolare A volte consoliamo Nel modo sbagliato Perché rimanevano in casa E la consolavano Ma quello Non era il momento Di essere consolata Era il momento Di andare incontro Al maestro E se non siete d'accordo Prendetevela con la Bibbia Appena Maria Fu giunta Versetto 32 Dove era Gesù E lo ebbe visto Gli si gettò ai piedi Dicendogli Signore Se tu fossi stato qui Mio fratello Non sarebbe morto Ehi Signore perché hai permesso Questo male nella mia vita Signore perché l'hai permesso Quando Gesù la vide Piangere E vide piangere Anche i giudei Che erano venuti con lei Fremette nello spirito Si turbò e disse Dove lo avete deposto E si gli dissero Signore Vieni a vedere Gesù pianse E la storia va avanti E Gesù Chiama Lazzaro Dalla tomba E lo resuscita Ma non voglio soffermarmi Sul miracolo di resurrezione Voglio soffermarmi Sul lavoro Interiore Che Gesù Ha dovuto fare Nella vita di Maria Che era elogiata Ma nel momento Tragico Si è offesa Con Dio E ci sono Molto probabilmente Nella nostra vita Are In cui sono Offese Con Dio No io mai Non ci si può Offendere con Dio Maria ci è riuscita E se magari Ti guardi un po' dentro Forse ci sia riuscito Pure tu A fare una cosa Così stupida Ma Comprensibile Io posso comprenderla Ma rimane una cosa Sbagliata Probabilmente Anche Mosè Si è offeso Però questa è la scelta Se entrare Nella Nell'atmosfera Della vera fiducia Oppure Rimanere Nell'offesa Nei ritagli Personali Nella nostra vita Dove non ci fidiamo Pienamente Ma è un'area Inondata Di tenebre Di incredulità E di diffidenza Ma questo è il processo Iniziale Per entrare in un In un ciclo nuovo Di trasformazione Portare luce In quelle aree buie Dentro di noi Per questo c'è bisogno Della chiesa Per questo c'è bisogno Di mettersi in discussione Per questo abbiamo Un sacro Santo Bisogno Dell'opera Dello Spirito Santo In noi Che lasciamo Dio Parlare Di quello Che Lui Vuole parlarci Oggi Se stai ascoltando Attraverso questo messaggio La sua voce Non indurire Il tuo cuore Non dire Per l'altro E per quello La mia destra La mia sinistra No perché forse C'è un'area in te Che ha bisogno Del restauro Vuoi o non Vuoi entrare In questa benedetta Terra promessa Perché la Bibbia dice Che la vecchia generazione Non entrò Nella terra promessa A causa Della loro Incredulità A causa Della loro Mancanza di fiducia A causa Della loro Mancata Alleanza Con il Signore Alleanza Di cuore Non vi poterono Entrare Tra questi Mosè il liberatore Mosè il liberatore Non vi entrò Perché non si era Fidato Di Dio Agli occhi Di tutto il popolo Di Israele E non aveva Dato gloria Al suo nome Se non ti sei fidato Di Dio Se non l'hai fatto Davanti agli occhi Del popolo Del Signore E non hai dato gloria Al nome del Signore Di chi ti sei fidato Davanti a chi ti sei fidato E A chi hai dato gloria Perché non esiste Perché non esiste La mancanza di Di devozione Non esiste la mancanza Di adorazione Anche l'ateo È un assurdo Perché L'ateo Di per sé Non esiste Molti sono arrabbiati Con Dio Allora per dispetto Fanno gli atei Oppure Veramente Non credono In Dio Ma credono In se stessi E fanno l'idolo Di se stessi Quindi non esiste Realmente l'ateismo Un Un predicatore Credo che fosse Spurgion Disse L'ateismo È una cosa strana Una cosa che neanche È un peccato Che neanche i demoni Hanno mai Hanno mai praticato Perché la Bibbia dice Che i demoni Credono E tremano L'ateismo Addirittura Fa un peccato peggio Del diavolo No? Perché non crede In realtà Crede in qualcos'altro Crede in se stesso Fa l'idolo di se stesso E probabilmente Mosè in quel momento Ha fatto l'idolo di se stesso L'idolo della sua autorità Ma Per compensare Una mancanza di fiducia Quando c'è una mancanza Di fiducia Dentro di te Tu la compenserai In qualcos'altro Non può rimanere vuoto Non esiste qualcosa Che rimane vuoto Per troppo tempo O è colmato Dalla presenza di Dio O sarà colmato Da qualcos'altro Non esiste Il vuoto Ok? Non esiste un vuoto A lungo termine Un trono Non rimane vuoto A lungo Così come Ogni altra cosa Quindi La parola di oggi È Comprendere La forza Della fiducia E processarla Affrontarla Perché a volte Non abbiamo fiducia Perché c'è un'area Offesa Nel nostro cuore Maria si è offesa Sara Si è offesa Perché? Perché ha voluto aiutare E poi venne rimproverata Marta Guardate qua Quanto avete mai sentito Elogiare Marta? Oggi io voglio elogiare Marta Perché Marta Ha fatto tesoro Delle sue parole E nel momento della crisi Anche se soffriva È andata incontro Al Signore Stiamo comprendendo Stiamo realizzando Alcune situazioni Ci sta parlando O non ci sta parlando Il Signore Perché questo Dovrebbe veramente Farmi riflettere Veramente portarmi A mettermi davanti a Dio E la durezza del cuore A volte arriva Da un'offesa È una resistenza Al cambiamento L'offesa L'incredulità È una resistenza Al cambiamento E ogni volta Che non cerchiamo L'aiuto di Dio È perché Non poniamo La nostra fiducia In Lui Allora la cerchiamo Di cammuffare In altre cose E lì ci connettiamo Al discorso Dei rifugi Dei falsi rifugi Che ci sono Tante aree Di falso rifugio Quando c'è Uno stato d'animo Che non viviamo bene Molti si rifugiano Nel cibo Molti si rifugiano Nelle conoscenze Molti si rifugiano Negli hobby Che tutte queste cose Che ho elencato Sono buone Lecite Ma non quando Diventano il rifugio O la falsa Consolazione Sono quei momenti In cui Tutto La nostra anima Grida Che io la devo andare A colmare Con la presenza Di Dio È un processo Doloroso Ma è un processo Che non ci farà Almeno rimanere Seduti in casa Quando Gesù Ci sta chiamando Dio Ci benedica Grazie.